La pressione di sostenibilità industriale, mi riferisco al fatto, se immaginate che tutti i costi, dai costi di trasporto, dell'alluminio, della carta, del personale, dell'acciaio, quindi dei nuovi macchinari, delle manutenzioni, tutti questi costi sono aumentati, il costo industriale dei farmaci, il costo distributivo, il costo di stoccaggio, il costo dei nostri impianti, è tutto aumentato. Allora, quando lei va in farmacia, acquista un farmaco, diciamo, quelli all'interno del sistema sanitario nazionale, vedrà che si tratta di scatolette da pochi euro, 5, 6, 7 euro, il 50% di questo prezzo se ne va tra IVA e distribuzione, è il restante che rappresenta il ricavo per le aziende. Allora, se questo è un settore strategico, è anche importante mettersi al tavolo, poter ragionare un attimo su un recupero, ancorché piccolo, dell'inflazione. Andando, sono andata a vetroso come gamberi alla prima domanda sulla criticità, diciamo, dei trasporti di assicurazione, è vero che le merci viaggiano dall'Asia verso l'Europa, ma un'azienda che ha il cuore produttivo in Europa le fa viaggiare anche dall'Europa verso l'Asia e quindi questo è vero in entrambe le direzioni, quindi i nostri prodotti uniti. Spesso ci troviamo costretti a utilizzare il vettore aereo, che ovviamente ha costi molto diversi e torniamo al punto di cui prima, per cui l'impatto in e out si fa sentire.